Un saluto a chi ci segue sul sito del Quotidiano del Sud, un saluto a Lindo Nudo, ospite oggi nei nostri studi, regista, attore, dovrei definirla da oggi scrittore in qualche maniera perché in questi giorni è appena uscita, è uscita in questi giorni questa traduzione che lei ha fatto in dialetto cosentino di un capolavoro della lettura mondiale che è il piccolo principe di Sant'Uperi. Come si sente in questa veste? Intanto precisiamo, va bene il regista, va bene l'attore perché è quello che comunque faccio da tantissimo tempo, assolutamente non va bene l'autore in questa nuova veste, mi ci sento occasionalmente bene, benissimo, però ritengo sia la prima e forse unica esperienza di pubblicazione Perché è un lavoraccio in mano e sicuramente non è il mio ambito prediletto, non ho questa dote della scrittura, della scrittura facile, della scrittura poetica, come mi piace lavorare con la scrittura ma sempre in relazione alla scrittura teatrale E quindi adattamento di testi teatrali già esistenti o da letteratura, da romanzi, al di là di questo lavoro sul piccolo principe, mi attivo anche delle riduzioni sul libro Cuore di Amici, su testi classici Che ha fatto già in carriera, e allora perché gli è venuta voglia di fare questo lavoro, come lei ha già definito è stato un lavoraccio in mano? No, non è ecco, si può dire tutto tranne che mi è venuta voglia così, perché dall'idea di qualcosa che scoppia all'improvviso, no, questo è un progetto che arriva forse da oltre vent'anni C'è proprio il classico sogno, il cassetto che ognuno di noi si porta dietro, arriva da vent'anni da quando ho scoperto, forse uno dei pochi ad aver letto il piccolo principe da adulto E quindi la scoperta di questo libro bellissimo in un ambito anche abbastanza raro, particolare, che era il servizio militare Durante il servizio militare con un mio amico, che io definisco amico poeta, mi fece conoscere questo libro, ci scambiavamo libri durante gli assalti, le esercitazioni militari o i campi in giro per le montagne del Pollino piuttosto che dell'Asila E ci fu l'incontro con questo libro, insieme all'incontro con questo libro, bellissimo, che mi folgorò immediatamente e che, ci voglio dire, nella banalità poetica possiamo definirla Ho cominciato a regalare a tutti gli amici più intimi, come abbiamo fatto ognuno di noi Da lì poi partì, sempre con questo mio amico poeta, che tra l'altro mi ha regalato un racconto che è in appendice al libro stesso, insieme ad un altro racconto mio Che parla di questo giochino che partì subito dopo la conoscenza del Piccolo Principe, cioè insieme partì questa sfida a chi collezionasse più traduzioni del Piccolo Principe E che arrivavano da parte, da tutto il mondo Quindi lei alla collezione del Piccolo Principe tradotto in appendice In appendice al libro, alla traduzione del Piccolo Principe, intelletto che l'ha presa, c'è questo racconto che è la strana collezione In cui appunto racconto di come prese il là e appunto racconto di questo incontro con il mio amico durante il servizio militare Delle prime traduzioni che cominciavano ad arrivare dagli amici disparati che andavano in giro per il mondo Ai quali all'inizio chiedevo di portarmi la copia Non so, mi viene in mente il mio amico Max Mazzotta che andò a fare la tournée con Streller Adesso con Alerchino Servitore di Due Paragoni a New York e gli chiedevo di portarmi la copia in inglese Però printed in New York Così come gli amici che andavano in Spagna, che andavano nei paesi dell'est E quanti ne ha? Adesso sono arrivato intorno alle 50 traduzioni È un bel po' Stracciando il mio amico che intanto persi per strada Perché poi sono arrivate le copie più strane, più disparate Cioè voglio dire anche dalle mie attività teatrali Negli ultimi anni nell'ambito del progetto di residenza al Piccolo Teatro dell'Unical Ho ottenuto spesso dei corsi con studenti internazionali Studenti che studiano all'Università della Calabria e che arrivavano a delle parti più disparate E allora, non lo so, magari la copia in albanese, la copia in lituano La copia in... E quella più particolare che lei ha Quell'ultima che mi è arrivata, una delle ultime che mi è arrivata che è in Guarani C'è una ragazza del Paraguay che mi ha mandato una versione Nel dialetto del Guarani, delle foreste del Paraguay Ma ce ne sono tantissime Poi inizio anche questo giochino Delle traduzioni, della collezione, delle traduzioni in dialetti Nei vari dialetti delle regioni italiane Per cui arrivò la copia piemontese, la copia napoletana, la copia in Veneto Ah quindi c'è questo esercizio che si fa anche nelle altre regioni di traduzione Diciamo che dal momento in cui sbucò fuori la prima, venne pubblicata la prima traduzione dialettale Mi nacque l'idea, perdonami il francesismo Mi si sfriculiò questa idea di giocare a fare la traduzione in dialetto calabrese Mi avvicinai a questo desiderio con le messe in scena Come giustamente dicevi prima, la mia attività principale è quella di attore, regista In particolare della compagnia Teatro Rosso Simona Che ho fondato insieme a un gruppo di giovani calabresi Insomma a finire degli anni 90 E feci due versioni diverse del Piccolo Principe a teatro Che già da allora si chiamava O Principicchio Una versione del 2003 e una versione del 2005 Si chiamava già O Principicchio perché all'interno di tutto il percorso Che tra l'altro ricalcava e giocava sulla mia strana collezione Per cui ogni personaggio aveva un accento particolare Dal re che parlava un po' in tedesco E l'ampionaio con l'accento portoghese Ogni personaggio aveva una caratterizzazione linguistica di una lingua straniera Con la chicca che invece il personaggio della Volpe Che insomma che diciamo dal punto di vista drammaturgico E' uno dei protagonisti dell'opera Insieme al Piccolo Principe, all'Aviatoria, alla Rosa La Volpe parlava in dialetto calabrese Nella fattispecie nel mio dialetto Cioè rendese cosentino E quindi già sperimentai questo tipo di approccio della traduzione Con le messe in scena E qui poi il sogno è rimasto lì E visto che stiamo parlando di un capolavoro della letteratura mondiale La traduzione in cosentino rendese, chiamiamola così Aggiunge qualcosa a quello che già conosciamo? La traduzione per noi è un momento di esaltazione della nostra lingua Che spesso è stata negli anni Per fortuna negli ultimi tempi no Però è sempre stato considerato come un codice linguistico minore Quasi da evitare Invece piuttosto che esaltarne le qualità altissime Per noi aggiunge Intanto è, come dire, sono riuscito ad essere il primo Perché c'erano nell'aria anche altri rumor Se c'erano altre persone che stavano Diciamo che dal momento in cui sono decaduti i diritti Nel 2015 Che l'opera è stata tradotta dalla Bombiani Nel 1949 Quindi 65 anni scadevano nel 2015 Sono riuscito Cioè aspettavo questa data Perché altrimenti ci sarebbero stati degli iter burocratici Di richieste Completamente diversi Aspettavo questa occasione Aggiunge che sono i nostri colori La nostra lingua Sono i nostri suoni Sono le nostre atmosfere E il bello è Perché una cosa è giocare con il dialetto Anche sulle cose un po' più Più giocate Più divertenti Più sullo scherzo Più sulla, come dire Raccontare ironicamente delle cose Però la traduzione poetica L'utilizzo del dialetto Per descrivere O tradurre in questo caso Delle espressioni poetiche Cioè utilizzare il dialetto E facendo mantenere Questo aspetto Questo respiro poetico dell'opera Ecco quella era una sfida complicata Che credo sia anche la sfida più difficile Assolutamente sì Visto che stiamo parlando Di quello che ci porta a noi La versione in dialetto Del piccolo principe La Calabria È una terra di bellissimi tramonti Se la guardiamo sulla costa tirrenica Ci legge, ci regala Proprio il passaggio famoso Quello dei tramonti Che il principe vedeva Quarantatré volte Quarantatré volte In un giorno È il capitolo sesto Poichino principicchio Biagio Chiano chiano hai capito Che la vita tua Era come se fosse Accumegliata E nuovellice rima L'inconia Per tutta la vita tua Tutte le sire Ha passato Il tempo Seduto su panna Seggiteggia Attingerò il cuore Guardando su Che tramontava E questa cosa Mi ha fatto capire La mattina Do un quarto giorno Quando mi ha detto A guardare il tramonto E mi scialo Andiamo guardando Il tramonto Ma amo di aspettare Aspettare che? Che sulle tramonta All'inizio ci si rimasta E poi ti ha fatto Una resta a terra E mi ha detto Pare che signo Sembra la casa mia Proprio così Quando eri stato Unito in mezzurno Tutti sanno Che sulle Stai tramontanare la Francia Abbastasse che si potessi Gliare la Francia In un minuto Per si potessi Guardare sulle capuna Per sfortuna La Francia è troppo lontana Invece Su tuo pianeta tuo Che era picciriddo Picciriddo Ti bastava spostare Se ci tende E due o tre passi E l'appo ti ha aspettato Tutte E potete che di venire Un curio Che sulle si faceva Prima rosso rosso E capò Sparisce O scuro Da notte Noi urno E visto un sole Che tramontava Quaranta tribote E poi più tardi Mi ha detto Non sanno tutti Che quando uno E' assai triste Li piacciono i tramonti Chiero io Che tu ha visto un sole Tramontava Quaranta tribote Avesse davvero triste Ma un principicchio Un marrisposo Tra l'altro Non abbiamo detto Che il libro E' stato pubblicato Da Rubettino Con i disegni originali Sì Perché graficamente Evidentemente E' stato scelto Anche di seguire Una linea Che tenesse fedele Tenesse fedeltà Alla versione Origina Sì E anche su questo E' stato importante Comunque Che Aspettare questo tempo Giusto Per la pubblicazione Sì Rubettino Tra l'altro Con una grandissima apertura Comunque In un ambito Che loro Non hanno Nella casa editrice Nella casa editrice Una linea Di traduzioni O di letteratura Per l'infanzia E quindi C'è stato questo Io gli ho presentato Il progetto Tra l'altro Conosciuto Luigi Franco Della Rubettino In occasione Del tour Di presentazione Del film Anime Nere Insieme a Criaco E al mio amico Peppino Mazzotta Quindi tramite Peppino E sono riuscito A presentarmi a lui In una Del tour Sono andato con loro Ho visto il film Anime Nere La presentazione Del dibattito E poi siamo stati A cena insieme E lì Gli ho fatto Questo tipo Di proposta Ne abbiamo parlato Un po' E da subito Lui aveva mostrato Interesse Fino a quando poi Ho deciso Di andare a fare una visita E parlare in maniera Più concreta Del tutto Peppino Mazzotta Grandissimo attore Che collabora anche Con Rosso Simona Ogni tanto Le ha scritto la prefazione Immagino La parola è bellissima Ha scritto una prefazione Che è semplicemente Fantastica C'è una prefazione Emozionale Cioè La prefazione Vale quanto tutto il mio lavoro Davvero sono Orgogliosissimo Di questa Amicizia Che ho con Peppino Tra l'altro Ci voglio un'amicizia Che risale Da Quasi 30 anni Che ci conosciamo Da quando lui Aveva 17 18 anni Quando iniziava A muovere I primi passi Nell'Accademia Teatrale di Palmi Mi eravamo in stanza Insieme Con lui Lui che iniziava E io che stavo Finendo il mio percorso Di studi Però Ci voglio dire Già da subito Si marcava la differenza Col suo talento La sua creatività E' quello che pochi Pochi conoscono Che oltre al Peppino E' Peppino Mazzotta Grandissimo attore di talento Grandissimo regista E pochi ne conoscono Invece lo spessore Intellettuale Perché Peppino E' uno che ha Una capacità Di sintesi Ciò che accade Nella nostra società Che è davvero importante E oltre ad essere Anche lui Autore di scritti teatrali Di testi teatrali O comunque Con grandi collaborazioni Importanti A livello Internazionale E Peppino Mi ha regalato Questa prefazione Riuscito a trovare Il tempo Nei suoi impegni Per scrivermi La prefazione Che ti ripeto Già iniziare Leggendo queste Quattro pagine Che mi ha scritto Che ha scritto Peppino Davvero è E' un bel viaggio E' un viaggio emotivo Poetico Culturale Interessantissimo E poi c'è la passione E poi c'è Il rapporto di amicizia Forte Che ci lega Le chiederò più tardi Di leggere un altro pezzo Prima però non posso Non farle una domanda Su questo benedetto Teatro calabrese Che tutti quanti Vorrebbero In crisi Il teatro è sempre in crisi In Italia Nel mondo Direi Da quando memoria io Però qui in Calabria Pare che ci portiamo dietro Questo ritornello continuo Il teatro calabrese E' sempre in crisi A che punto stiamo? No ma il punto è Ma hai detto bene Non è tanto il teatro calabrese Ma il teatro nazionale E riflette Quello che accade A livello nazionale A livello nazionale Si sta aspettando Una risposta del Tar Per capire se Il famoso decreto Franceschini Debba essere annullato Oppure se possa esserci Una proroga Per le nostre attività Quindi siamo Al mese di ottobre Ancora La mia compagnia Che è una delle cinque Riconosciute Dal Nibac Anche dal ministero Per il bene E le attività culturali Cioè al 17 ottobre Ancora non sappiamo Qual è la mia assegnazione Per il 2016 Cioè ancora non so Quando la compagnia Cioè voglio dire Che hai quattro soldi Che siamo una delle Cioè la mia Una delle compagnie Meno finanziate in Italia Contributi più bassi Fra tutte le compagnie italiane Ma in genere Tutte le compagnie calabrese Per tutte le compagnie calabrese E così E un po' Con il teatro calabrese Siamo un po' Sempre lì Ad inseguire Di positivo che c'è un grande movimento Dei teatranti calabresi Che con tutte le differenze Con tutte Le difficoltà Anche di dialogo Che possano esserci Fra strutture Con obiettivi E strutture Completamente diverse Però Onestamente Mi sento di dire Che si è cercato E si sta continuando A cercare un dialogo E una sintesi Che possa in qualche modo Mettere d'accordo tutti O comunque trovare Dei punti di accordo Su quella che possano essere Delle istanze Politiche C'è stata una grande apertura Di rilancio Sul teatro Da parte del presidente Della regione Calabria Oliverio Però Questa cosa In qualche modo È lì Per accadere Come dire Abbiamo fatto Delle modifiche A una proposta Che lui avevano E il suo staff Avevano già elaborato Adesso Stiamo aspettando La loro risposta E comunque C'è l'iter burocratico Che è sempre complicato Poi insomma Come dire Ci sono sempre Le polemiche In agguato Collaterali Che in qualche modo Ne minano Quelli che sono I valori propositivi E che speriamo In qualche modo Che se ne esca Quanto prima Perché abbiamo bisogno Di propositività E di azione Mi piace il passaggio Che comunque Il fermento Culturale Teatrale Non si ferma Nella nostra regione Nonostante le difficoltà Ci regala Allora Un'altra parte Del principicchio Sì Troviamo Questo altro passaggio Che ritengo Sia Proprio Come dire In accordo Con quello Che dicevo prima Di come La lingua Possa Dialettale Possa restituire Anche L'aspetto poetico Dell'opera È il momento In cui L'aviatore E il piccolo principe Si avviano Per cercare L'improbabile Apparentemente Pozzo Nel deserto È il piccolo principe Che si addormenta Tra le braccia Dell'aviatore Lì stava Calando Suon Io l'aveva Pigliato un brazzo E aveva Continuato a camminare Ma aveva Fatto venire Lacrime All'occhio Mi paria Che stava portando Dentro le brazze Un tesoricchio Delicato Delicato Mi paria puro Che su parte Non c'era Niente E' più delicato Io guardava Alla luce Da luna Che la fronte Ianca Che i luoghi Chiusi Che ricciuffa I capigli Che tremava Una rubiente E mi dicea Che so che io Stavi dire Nessuna parte E fuori E cose più importanti Non si vedano Con lui E siccome tu dormi A cuore la bruza E una piccara aperta Che pare che mi stava Facendo una mensa Risa a terra Mi signuditta ancora Che se chiusa Mi commuove De chiude Suo principicchio E che si riesce a vedere Pur quando sto dormendo Quanto bene Le vuole Alla rosa Sua Si riesce a ravire L'immagine Esa rosa Che abri La sua faccia Sua Come una lampada D'uglio E vedi ancora Che più delicato E lampade Sa ne sapere proteggere Basta una bottigetta Di vento Per la stuta E così Caminando Caminando Mentre stavano Nascendo Un sole Amo trovato Un pozzo Che stavamo Cercando Assolutamente Emozionante Grazie davvero Grazie tante A Lido Nudo In bocca al lupo Per il suo libro Grazie a voi Che ci avete seguito Sul nostro sito L'appuntamento Come al solito E alla prossima Arrivederci